Ciao ragazzi, in questo video voglio parlarvi un attimo delle discoteche perché l'altra sera sono andata a ballare e ho visto cose veramente veramente interessanti Allora ragazzi, ci sono innanzitutto i morti di figali quelli li ho trovati in pista a ballare nei modi più assurdi perché probabilmente hanno iniziato ad andare in discoteca ieri e ballano tutti fomentati come se qualcuno glielo stesse buttando in culo e non capiscono più un cazzo perché probabilmente hanno usato ieri per la prima volta la figa e quindi hanno... si sono toppati In più ci sono alcuni privee, alcuni non tutti dove sembra di stare al canile con i box quindi secondo me mettono la musica alta apposta perché sennò si sentirebbe solo che abbagliare E poi ci sono quelli che al primo drink stendono perché probabilmente l'unico drink che hanno bevuto nella loro vita è stato il biberon della mamma però li vedi il giorno dopo sui social a scrivere serata top taglie se sboccia e poi dopo dieci minuti stavi là stirato sul divanetto Poi non si sa come mai entri dentro la discoteca che profumi di, che ne so, Chanel, Demetrio, Chanel numero 5 è uscito là che puzzi, che pare uscito da un campo rom non si sa